il coniglio anche quel mattino mastro le cashier apparve sulla soglia di casa alla solita ora che era tra le cinque e le cinque un quarto si alzava presto per sorvegliare i lavori della fattoria rosso in faccia per metà sveglio occhio destro aperto l'altro semichiuso faticava ad abbottonare le bretelle del pancione e già mandava in giro sulla fattoria lo sguardo di padrone cui nulla sfugge il sole filtrava obliquo fra i faggi del fossato e i meli della corte e faceva cantare i galli sulla concimaia e tubare sul tetto i piccioni la porta della stalla era aperta e il sentore che ne usciva si mescolava nell'aria fresca del mattino con quello acre della rimessa dove i cavalli volgendo la testa al sole nutrivano quando i pantaloni furono fissati saldamente alle bretelle mastro le cashier si mosse avviato per prima cosa il pollaio a contare le uova che le galline avevano fatto poiché da un po' di tempo sospettava che gliele rubassero ma a mezza strada ecco corretì incontro scalmanata la ragazza della fattoria padron cachet padron cachet stanotte hanno rubato un coniglio un coniglio si padron cachet in grosso grigio della gabbia di destra il padrone aprì del tutto l'occhio semichiuso e disse ah questa vediamo un po' davanti alla gabbia vuota e aperta l'uomo si fece pensieroso chiuse l'occhio destro e si grattò il naso riflettuto che ebbe disse alla serva che stava lì con la faccia spaurita e spaventata va a cercare i gendarmi che vengano subito vi aspetto padrone cachet era sindaco a pavigny legrà e un po' per questo un po' per il suo denaro vi faceva il buono e il cattivo tempo la fattoria distava dal villaggio mezzo chilometro quando la serva partita di corsa verso il villaggio sparì dalla vista il contadino rientrò in casa per sorbire il caffè e comunicare la novità alla moglie la trovò che soffiava nel fuoco in ginocchio davanti al camino dalla soglia il marito le disse sai hanno rubato un coniglio il grigio quello grosso lei si voltò con tanto impeto che finì a sedere per terra guardando il suo uomo con occhi desolati disse che dici mai han rubato un coniglio il grosso grigio il grosso grigio tirò un sospiro che guaio chi può averlo rubato sto coniglio era una donnetta magre vispa pulita che che sapeva far fruttare tutto e non lasciava oziosi né terra né cristiani un sospetto le caffè le aveva deve essere quel furfante di polit la fattoressa fu in piedi di colpo e andando in collera è lui è lui decise non c'è bisogno di cercare altro è lui hai azzeccata giusta caffè sulla faccia magra e astiosa tutta la sua collera di contadina tutta la sua avarizia tutto il risentimento della donna parsimoniosa contro il garzone sempre sospettato si leggevano nella contrazione della bocca nelle rughe delle guance e nella fronte e tu chi hai fatto ho mandato a chiamare i gendarmi pulita era stato impiegato nella fattoria alcuni giorni come uomo di fatica e licenziato per una rispostaccia vecchio soldato che aveva fatto le campagne d'africa aveva fama di non aver mai smesso il vetto di rubacchiare e di far vita dissoluta per tirare avanti faceva un po tutti i mestieri muratore sterratore carrettiere falciatore spaccapietre portatore ma il suo mestiere preferito restava quello del fannullone per cui non durava in nessun posto e per trovare lavoro doveva ogni tanto cambiare aria la moglie di le cocher non l'aveva potuto soffrire dal primo giorno e ora avrebbe messo la mano sul fuoco che il ladro del coniglio era lui mezz'ora dopo arrivava il brigadiere senateur con il gendarme lenien uno spilungone magro il primo grasso e tozzo l'altro le cocher li fece sedere e li mise al corrente li condusse poi sul teatro del delitto perché potessero constatare che c'era il scasso e per tutti i rilievi del caso rientrati la fattoressa portò del vino riempì i bicchieri e con uno sguardo che non testimoniava grande fiducia chiese lo prenderanno il brigadiere con la sciabola tra le gambe pareva avesse a riguardo i suoi bravi dubbi certo se gli dicevano chi era del resto si incaricava lui altrimenti infatti il frutto delle sue lunghe elucubrazioni fu la domanda sapete che è stato la malizia del normanno mise una piega sulla grossa bocca di le cocher che rispose sapere che è stato no non lo so perché non l'ho visto a rubare l'avessi visto gli avrei fatto inghiottire il coniglio crudo pelo e tutto senza neanche un sorso di sidro che lo aiutasse a mandarlo giù quindi dire che è stato non posso dirlo sebbene sospetti che sia stato quel fannullone di polit e iniziò un interminabile racconto di quel che era avvenuto tra loro come l'aveva messo alla porta lo sguardo che il garzone gli aveva lanciato i propositi di vendetta che gli erano stati riferiti una quantità insomma di indizi particolarizzati quanto insignificanti il brigadiere che aveva ascoltato tutta quella storia con grande attenzione senza tuttavia scordarsi di bere il suo bicchiere e di mescerne senza parere un secondo rivolto al subalterno bisognerà vedere un po' in casa della moglie di quello stupido di Severin il gendarme sorrise e tre volte accennò col capo ad aver capito l'idea del superiore mentre la Lecachere si avvicinava al brigadiere e mettendo in opera la sua astuzia lo interrogava su Severin ed ecco che cosa ne venne fuori il nominato Severin era un pastore un sempliciotto un animale più che un uomo che allevato in un ovile era cresciuto sui monti in mezzo al velare delle sue bestie requiete conoscendo solo esse al mondo e che pure aveva conservato in fondo all'anima l'istinto contadinesco del risparmio bisognava credere che per anni e anni avesse nascosto nel cavo degli alberi o nelle fessure delle rocce tutto il denaro che guadagnava sia guardando le pecore sia guarendo con formule e toccamenti le storte degli animali arte che gli aveva insegnato un vecchio pastore del quale aveva preso il posto fatto si è che un bel giorno pote disporre di tanto denaro da comperarsi in un'asta pubblica un pezzo di terra e una caciupola che pagò tre mila franchi ma non basta qualche mese dopo questo acquisto si veniva a sapere che Severin convolava a nozze sposando una serva d'osteria ben nota per i suoi costumi scandalosi si raccontava che Costei sapendo il pastore danaroso di notte l'andava a trovare nella sua capanna e che così a poco a poco l'aveva abbindolato sino a farsi condurre all'altare sposata in chiesa e in municipio abitava ora la casa che lui sarà comprato mentre il marito notte e giorno continuava a spingere di pianura in pianura le grezze al pascolo il brigadiere aggiunse sono tre settimane che Polite dorme con lei visto che non ha dove posare il capo quel briccone il gendarme si permise di commentare porta via il guanciale all'altro alla rabbia del patito furto aggiungendosi quello della donna maritata regolarmente contro lo sfacciato libertinaggio un nuovo accesso di ira assalì la lecacher che sbottò e lei ci metto la mano sul fuoco ah su dicioni di ladri andate andate a vedere ma il brigadiere non aveva fretta un momento disse aspettiamo mezzogiorno come ci dorme ci pranzerà e sorprenderò col muso nel piatto il gendarme sorrideva provando l'idea del capo e anche lecacher sorrideva ora al pensiero di severin perché un marito trova sempre divertente che un altro marito sia becco era suonato da poco mezzogiorno quando il brigadiere senateur seguito dal suo satellite batteva tra leggeri colpi alla porta ad una casetta solitaria costruita all'angolo di un bosco a 500 metri dal villaggio addossati al muro in modo da non essere scorti dall'interno attesero non avendo ricevuto risposta dopo uno o due minuti il brigadiere bussò di nuovo dato il silenzio si sarebbe detto che in casa non ci fosse nessuno ma le nien che era ad orecchio fino fece capire che nell'interno c'era qualcuno che si muoveva senateur allora si indispettì non ammetteva che non si obbedisse all'autorità sull'istante e battendo l'elsa contro il muro e gridò parole sacramentali in nome della legge aprite e poiché anche adesso la porta restava chiusa urlò se non aprite faccio saltare la serratura sono comandante della zendarmeria per dio attenzione non aveva finito non aveva finito che la porta s'aprì e si affacciò a una ragazzona scalmanata grassa e soda col seno scoperto larga di anche un pezzo di femmina sanguigna e bestiale la moglie di severale senateur entrò in casa vengo a farvi visita per via ad una piccola inchiesta senateur entrò in casa e girava l'occhio intorno sulla tavola un piatto due coltelli un boccale di sidro un bicchiere pieno a metà testimoniavano ad un pasto interrotto il gendarme maliziosamente strizzò l'occhio al suo capo che disse c'è odor di buono qui coniglio saltato sembra rincarò Lenin non nascondendo la soddisfazione gradite un bicchiere d'acqua vita disse la donna grazie no quel che desidererei è la pelle del coniglio che mangiate lei fece l'ingenua che coniglio ma tremava il brigadiere intanto si era seduto e si asciugava con molta flemma la fronte andiamo andiamo padrona non ci farete credere che facevate colazione con le lenticchie e basta che stavate mangiando tutta sola ma niente di niente vi giuro un po' di burro sul pane buzardella un po' di burro sul pane vorrete dire piuttosto un po' di burro sul coniglio sa di buono il vostro burro è un burro sopraffino un burro extra un burro da farci baldoria un burro col pelo garantisco non è un burro casalingo cotesto burro il gendarme teneva bordone al capo garantisco che non è un burro casalingo poiché il capo amava le burle tutta la gendarmeria era diventata scherzosa e dov'è il vostro burro il mio burro sì il vostro burro ma nel recipiente diciamo allora dov'è il vostro recipiente che recipiente il recipiente del burro per dincibacco eccolo qui andò a prendere una tazza sbrecciata in fondo alla quale si stendeva uno straterello di burro salato francido il brigadiere lo annusò e secondo il capo non è questo mi occorre il burro che sappia di coniglio saltato in padella su via venen aprì l'occhio da un'occhiata alla credenza ragazzo mio io vado a darne una sotto il letto chiuse la porta andò al letto e cercò di spostarlo ma certo che non era stato smosso di dov'era da mezzo secolo perché dal muro il letto non si staccò il brigadiere dovette echinarsi un bottone salto via dall'uniforme lenien brigadiere vieni tu qui ragazzo io non ce la faccio a vedere sotto il letto lungo come sono della credenza m'incarico io e stette a vedere come l'altro se la cavava e neanche corto e rotondetto si tolse il capì si buttò a bocconi e incollata la fronte sul pavimento a lungo aguzzò gli occhi nel buio ed eccolo a un tratto gridare ce l'ho ce l'ho che cosa c'hai il coniglio il brigadiere si chinava sul subalterno lui il ladro il ladro tiralo fuori tiralo fuori e braccia che il gendarme allungava sotto il letto avevano afferrato qualche cosa che tirava a sé con tutta la forza e un piede calzato ad una grossa scarpa apparve finalmente il brigadiere se ne impadronì mentre René in ginocchioni ora tirava l'altra gamba incitato dal suo capo oh dai oh dai oh dai tira ma era impresa da sudarci perché il prigioniero sparava tremendi calci e inarcando la schiena si puntellava alla traversa del letto oh dai oh dai tira e tirarono con tutta la loro forza finché la traversa cedette e l'uomo venne fuori fino alla testa ma con questa cercava ancora di rimanere nel nascondiglio finalmente anche la faccia venne fuori la faccia furiosa insieme costernata di polit che ormai si attaccava al letto solo con le braccia tira continuava a grillare il brigadiere allora sudì un inatteso tintinnio di metallo e quando dietro le spalle vennero fuori le braccia e dopo le braccia le mani si vide che una di esse stringeva il manico di una casseruola e anche la casseruola venne alla luce con dentro il coniglio in fricassè ah ci siamo ci siamo urlava il brigadiere giubilante mentre il suo subalterno incatenava il prigioniero la pelle di coniglio la prova schiacciante che toglieva anche l'ombra del dubbio fu trovata nel paglierizzo l'impresa così ben riuscita ebbe una risonanza indescrivibile e otto giorni dopo padrone Cacher mentre entrava in municipio dove aveva fatto chiamare per parlargli il maestro di scuola apprendeva che Svareng il pastore lo attendeva là da un'ora l'uomo era seduto su una sedia e teneva il bastone tra le gambe vedendo il sindaco si alzò cavò il berretto chiede il buongiorno poi restò in piedi rigirando impacciato il berretto tra le mani che volete lo incoraggiò il fattore ecco qui padrone Cacher è vero che la settimana scorsa vi hanno rubato un coniglio sicuro che è vero Severin ah così era verità certo amico mio e chi l'ha rubato questo coniglio Polite Anca imbrazzante bene bene è vero che l'hanno trovato sotto il mio letto chi il coniglio il coniglio e anche Polite l'uno attaccato all'altro sì mio bravo Severin è vero dunque proprio vero già ma chi vi ha raccontato con questa faccenda un po' tutti io so chi e poi e poi la sapete lunga voi sul matrimonio voi che li fate i matrimoni voi che siete sindaco come sul matrimonio sì per quello che riguarda il diritto riguardo il diritto del marito e poi della moglie ma sì ebbene ditemi un po' padron Cachot mia moglie ha diritto d'andare a letto con Polite ma no ma no non ha diritto e se mi capiterà di pescarli ho diritto di dargliene a lei e a lui ma sì ma sì allora per il momento va bene vi dirò la settimana scorsa una notte che avevo dei pensieri rincasai e li trovai che di certo non si voltavano la schiena Polite lo mandai a dormire fuori ma nient'altro dato che non conoscevo i miei diritti questa volta non li ho visti l'ho saputo dagli altri lasciamo perdere e non parliamone più ma se li ripesco corpo di un diavolo se li ripesco mi faccio passare la voglia di spassarsela padron Cachaud com'è vero che mi chiamo Severin che mi chiamo